Ancora un clamoroso furto di cavi elettrici della pubblica illuminazione a Giara è stato messo a segno nella notte dai soliti cercatori dell'oro rosso, ovvero del rame. Questa volta nel mirino dei ladri i cavi che alimentano la pubblica illuminazione di un tratto di via Trieste nel quartiere popolare Iungo, circa 80 metri di strada, nella zona antistante gli alloggi popolari incompiuti. La Ditec si occupa della manutenzione degli impianti comunali, stamane ha scoperto che i gnoti dopo aver aperto le botole usando un avvolgitore hanno asportato circa 360 metri di cavo interrato, provocando subito l'interruzione della pubblica fornitura in una zona d'alta densità abitativa nella quale ricadono numerosi insedimenti abitativi, oltre all'ingresso del liceo scientifico Leonardo. Quello scoperto è il terzo furto del genere messo a segno nell'ultimo mese. A settembre, come si ricorderà, sono stati asportati diversi chilometri di cavo elettrico nella zona di via Almirante e più recentemente anche in via Fornalini, lungo l'asse che conduce all'ingresso principale del presidio ospedaliero Santisidoro. Anche quest'ennesimo furto è stato denunciato ai carabinieri della locale compagnia.